La cosa che mi piace di più è che è aperto 24 ore e sai la gente dice sempre cos'è un americano. Beh, le persone non lo dicono sempre, lo sto dicendo, ma non c'è una cosa del genere a New York. Non so niente del Midwest e di tutti quei posti, è l'America suppongo, a New York è come Londra, solo di più. Voglio dire, tutti sono stranieri, sai, nessuno può parlare, non c'è una lingua stabilita. Sai, sali in un taxi e dici voglio andare a West 4th Street e loro dicono cosa dici, sai? Quindi è come, è quel pezzo che mi piace. Come, ci sono tutte le diverse nazionalità qui e a volte d'estate è come essere a Calcutta o qualcosa del genere. Puoi tagliare il calore con un coltello, vero? E senti sempre i congas che suonano nel parco, è come un festival in corso.